Il Comune di Riserva della Repubblica è stato un convegno molto importante, all'interno del quale Maurizio Gasparri, Vicepresidente del Senato, ha lanciato un'idea interessante, cioè cercare di mettere insieme i comuni delle aree interne e quelle delle piccole isole per cercare di avere una fiscalità di vantaggio che possa sostenere lo sviluppo dei territori dei nostri comuni. È un'idea interessante che bisogna coltivare e che rappresenterà certamente un terreno di impegno del Comune di Soveria Mannelli per i mesi che verranno. Appunto per questo vedremo di organizzare un convegno con studiosi, esperti, uomini delle istituzioni per riflettere su questo tema, ma non per analizzare in maniera vuota il problema, ma per trovare delle concrete soluzioni. Grazie. 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 Grazie.